Oh ragazzi, oggi stavo giocando con Chiara a Fortnite e ho beccato un hacker! Sai come quando... come quando ha che... Ale urla HACKER! HACKER! La Chiara ha urlato HACKER e HACKER Io pensavo che facesse apposta tipo Ale per imitarlo Invece guardate, guardate! Guarda Giugi, guarda, guarda lecciato, vedi che spara di lato? Eh sì Guarda, guarda Vedi, vedi? Di fianco, così Ma quella skin è bruttissima pure, però beh È vero, è brutta proprio Ma poi anche a me Quello ero io, quella skin che non ti piace a te Ah, beh Guarda, rallentatore, eh Guarda Ma le angolature... Però qualcuno lo... eh sì L'ha cannato di colpo, è veramente un bug Non è il pirpido di Iquish Può essere il pirpido di Iquish, è vero Può essere che Iquish è tornando? È quello più gente Guarda, guarda, guarda qua Però alla fine, guarda, guarda come sono fotte Quindi hacker o bug di Fortnite? Capiamo Capiamo Per questo video è tutto ragazzi Iscrivetevi al canale E buon divertimento Ciao